Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 ci sono rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello per traffico intenso in direzione di Bologna. Fare poi attenzione per personale su strada tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino ma in direzione di Firenze. Sulla FIPILI segnalati materiali dispersi tra Gello e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione Firenze. Sulla statale 64 Porrettana fondo stradale dissestato tra Pavana Pistoiese e Sasso Marconi in entrambe le direzioni. Sulla statale 446 di Fosdinovo segnalata una frana all'incrocio di Fosdinovo per il cedimento di un muro di contenimento in località Gragnana. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana. Muoversi Toscana